Teo Balleri, un livornese doc, hai giocato il derby contro persone che conosci molto bene, partita difficile, sbloccata da un gran gol di granito, campione d'inverno e ora si inizia con il giugno di ritorno. Sì, era una partita difficile perché loro si sono rinforzati nel mercato dicembre, penso una squadra che comunque nel giugno di ritorno farà benissimo. Abbiamo fatto un gran giugno di andata, dietro comunque anche loro stanno facendo bene, bisogna continuare così e vediamo un po' se qualcuno perde i punti. Ecco, te sei uno dei giocatori di esperienza di questa squadra, come ben sappiamo il giugno di ritorno sono partite diverse da giorni d'andata perché sono tutte più difficili, inizia un mese dove ci sarà il big match di Coppietra Santa e poi la finale di Coppa Toscana. Sì, il giugno di ritorno sono punti che valgono doppi, subito abbiamo lo sconto diretto con Coppietra Santa, poi noi abbiamo anche la finale di Coppa, sono partite più difficili anche perché noi comunque sanno che siamo il Ponzacco, ci aspettano tutti e sono partite difficili come oggi che è difficile anche da sbloccare, però sappiamo la forza della squadra e bisogna continuare solo così. Ora si inizia col giugno di ritorno contro l'Ammari e poi poche feste di Natale vi ha concesso il mister. Il mister ci ha concesso poche feste perché sappiamo l'importanza comunque che non bisogna abbassare lo sguardo e bisogna continuare sempre sulla stessa strada che abbiamo iniziato ad agosto per arrivare poi alla vittoria del campionato.